E' un grande piacere sindaco averla a Montescaglioso. Montescaglioso e Matera, vicinanza geografica ma anche una vicinanza di storia, una grande occasione. Beh noi stiamo cucendo questa tela di rapporti e soprattutto di recupero di vecchie amicizie, di vecchie conoscenze come gli amici di Taranto. Noi vogliamo che l'operazione Matera 2019 non si traduca nel momento spettacolare delle canzoni, degli momenti anche di divertimento ma che sia l'occasione di un progetto di sviluppo territoriale. E quindi Montescaglioso è parte ombelicale della città di Matera. E noi dobbiamo appunto cercare di, non dico di costruire la città metropolitana perché non la possiamo fare per il numero degli abitanti, ma patti di azione tra i comuni, Miglionico, Montescaglioso, Pomarico, Grottole, cioè questi che ruotano intorno alla città e che sono diventati anche parte centrale di Matera. Su questa nostra presenza oggi a Montescaglioso è proprio quello di vedere quali possono essere i legami, ma soprattutto i progetti che possono intersecarsi rispetto al 2019. Progetti che naturalmente partano dalla storia comune dei territori, che sono legati diciamo innanzitutto al fenomeno rupestre e poi c'è la necessità di capire come Montescaglioso che possa entrare nell'ambito delle offerte dei servizi per la città. Matera ha bisogno di queste sponde operative e di servizio, posti di accoglienza, residenze per artisti e soprattutto anche occasioni di produzione culturale. Questi sono i punti centrali che poi debbono trovare nel circuito storico della città un altro punto di fissaggio e di riferimento. L'abbazia, le chiese, i frantoi, tutto questo deve essere un itinerario però funzionale, non soltanto statico. Oggi il turismo è narrazione, è emozione, è stimolazione, è conoscenza, non è solo visione passiva. E quindi occorre che i luoghi storici di Montescaglioso comincino a parlare al turista, a rappresentarsi al turista e a provocare il turista, così come noi stiamo cercando di fare a Matera. Quindi, come vede, è un disegno comune. D'altra parte Montescaglioso è parte integrante di Matera e quindi non può che essere legata a quello che sarà il futuro della città nel 2019. Chi è stato sempre legato a De Ruggeri è stata la famiglia di Taranto. Rocco di Taranto stamattina l'ha accolta. Qual è la visione per Montescaglioso e qual è l'opportunità che può cogliere con la vicinanza con Matera? No, non soltanto Rocco di Taranto, non soltanto la famiglia di Taranto, ma tanti amici che si sono riuniti e che da alcuni anni hanno voluto cambiare il registro di questa comunità, dando vita a quella che poi è stata denominata in Consiglio Comunale come area moderata. Il nostro obiettivo è quello di mettere assieme la parte migliore, le forze migliori di questa comunità, farle emergere e riuscire a proporsi eventualmente in questa competizione elettorale. Nulla ancora è stato deciso, stiamo soltanto verificando le condizioni per eventualmente farlo. Ad ogni modo chiunque poi si candida alla guida di questo paese non potrà non far tesoro di quella che è stata la testimonianza lucida dell'amico De Ruggeri. Questa comunità non può permettersi di perdere questa sfida, di perdere questo connubio, questo vincolo forte con Matera. Matera 2019 ha tre anni, Montescaglioso non può rimanere fuori da questa che è una ribalta internazionale e che potrebbe essere veramente la chiave di svolta per tanti dei problemi che attanagliano questa comunità. Non ultimo quello occupazionale, ma una ridare vitalità anche alle nostre proposte culturali dal punto di vista anche sociale. Questa è la sfida che chi si candida ad amministrare questa comunità deve cogliere e lo deve fare indissolubilmente legandosi a Matera e al suo primo artefice e protagonista, Raffaello De Ruggeri.